Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove adesso ci sono 10 km di coda per incidente avvenuto al km 271 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre sulla sola prima corsia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Bologna si consiglia di uscire a Calenzano e rientrare a Barberino di Mugello dopo aver percorso la strada provinciale 8 militare barberinese. In direzione Roma un km di coda per curiosi tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze e Sud in Cisareggello. In A11 un km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!